ben tornate mai dire dieta la mia cucina dedicato a mangiare diversamente imparare di quelle che stiamo mangiando e fruttare anche il senso diciamo della scoperta no andiamo a scoprire che cose ci nutre perché si chiama nutrigenomica attraverso il cibo posso andare a migliorare la qualità delle mie salute qui a mai dire dieta la facciamo con una tavola ricca saporita e divertente con me in questo bellissimo viaggio c'è gaudenzio calabrese ciao gaudenzio ciao gil sempre bello di essere con te grazie bellissimo per me e ragazzi scherzo tanto non giudicate le banane ok molte persone cercano la banana e c'è perfettamente giallo e senza attaccatura e senza diciamo le zone che sono un po abbruttiti o agneriti invece non sono quelle più buone assolutamente sono quelle mature in realtà sono quelle che hanno un sapore più acceso sono più dolci perché hanno raggiunto un punto di maturazione più elevato poi la banana veramente è un frutto molto importante ricco di potassio ricco di sali minerali ricche di tantissime proprietà che ci aiuta il nostro organismo vivere meglio poi l'altra cosa della banana e che ci aiuta in cucina ci puoi spiegare perché la polpa della banana ci aiuta nella cucina perché la polpa della banana ci aiuta ad addensare tutte le nostre preparazioni quindi come sapete quando sono più mature sono un pochino più morbide e quindi schiacciandole noi riusciamo ad addensare tantissime preparazioni a base di farina come quella che stiamo per preparare e quindi è utilissima per sostituire quello che in realtà utilizziamo quasi sempre cioè il burro che va un pochino ad appesantire le preparazioni e preparazione anche le vene anche le arterie perché il nostro burro purtroppo è ricco di grassi saturi e grassi saturi non fanno avere bene all'arteria così andiamo a presentarvi la ricetta di oggi che è banana bread scusate me l'ho dovuto dirlo in inglese va bene io faccio sempre finta di averlo detto insieme a te allora banana bread tradotto in italiano è pane alla banana pane alla banana un diciamo veramente qualunque sportivo qualunque nutrizionista qualunque persona che veramente ama la buona cucina prima o poi ha fatto almeno un pagnotta di banana bread nella loro vita però andiamo a scoprire insieme gli ingredienti di questa ricetta ci servono due uova una tazza tre quarti di farina di grano saraceno sei cucchiai di latte di avena di mandorla o di cocco mezza tazza di olio di cocco sciolto otto cucchiai di miele grezzo due cucchiaini di vanilla liquida o in polvere tre banane vecchie e marroni e super saporiti un cucchiaino di bicarbonato di sodio due terzi di cucchiaini di canella pizzico di sale rosa un pugno di noci se ti piacciono allora gaudenzi ci siamo pronto pronto per preparare questo bellissimo pagnotto di banana allora assolutamente iniziamo la nostra preparazione proprio dall'ingrediente principe che sono le banane ovviamente come abbiamo detto prima più sono mature e scure e migliore sarà la riuscita del nostro pane a base di banana quindi iniziamo dalle banane andiamo a schiacciarle come riusciamo insomma con una forchetta un cucchiaio con quello che ci piace di più in realtà noi adesso facciamo una preparazione un po grossolana per motivi di tempo esatto quindi ma a casa andremo a creare una crema con la nostra con le nostre banane una volta che le abbiamo schiacciate andiamo a inserire la farina gli altri ingredienti dove abbiamo inserito anche un pizzico di sale per aumentare la sapidità sempre della nostra preparazione poi aggiungiamo il nostro latte vegetale sì che non può mancare no che ci aiuta a amalgamare e allora anche qui ricordate potete scegliere tra latte di mandola latte di cocco latte di soia decidete voi esatto e quindi continuiamo ad impastare man mano che la nostra preparazione assume quindi la cremosità che deve avere quando abbiamo terminato poi di schiacciare le banane andiamo ad aggiungere l'olio di cocco è un altro ingrediente principale del nostro banana bread anche in questo caso ricordiamo ai nostri amici che l'olio di cocco può essere trovato in commercio sia in forma più solida quindi andrà sciolto poi o a bagnomaria nel nostro microonde ma poi riportato a temperatura ambiente per evitare che cuocia gli ingredienti quando li mettiamo dentro oppure già quello liquido che ci agevola nella preparazione poi vedo di là due uova esatto quindi andiamo ad aggiungere le uova che sono il nostro addensante principe le uova servono non dico sempre ma spesso spesso perché i nostri amici vegani giustamente non mangiano le uova però si potrebbe fare una uova di chia però affronteremo anche un'altra puntata esatto poi aggiungiamo il nostro bicarbonato ok gran signor levitante la vaniglia esatto grazie gil andiamo per la cannella e poi aggiungiamo vai la cannella che darà il particolare colorito scuro ecco che del nostro pane alle banane che è proprio classico classico oltre che dato dalle banane mature che sono già scure ma poi noi negli stati uniti usiamo tantissima cannella con perché la usiamo con le mele la usiamo con le banane c'è da una un sapore molto tipico anche molto buono però nel frattempo che noi prepariamo la nostra pane alla banana andiamo a scoprire le nostre star di queste ricette vediamo esattamente che cosa fanno per il nostro corpo banana controllo dell'acidità gastrica funzione digestiva aumentano il senso di sazietà con moderati livelli di zucchero nel sangue benefiche per il cuore perché ricco di potassio antidepressive riducono lo stress grazie al loro importante contenuto di triptofano un aminoacido che il nostro corpo converte in serotonina proteggono lo stomaco dalle ulcere e nelle culture cinesi associare una persona ad una banane rappresenta un segno di disprezzo la metafora che indica giallo fuori e bianco dentro si attribuisce solitamente a coloro i quali hanno origini cinesi ma non conoscono e non apprezzano la loro tradizione grano saraceno siberia cina e manciuria sono i più probabili luoghi di origine da lì il grano saraceno si diffuse ad opere della popolazione mongole e turche prima nel mar nero e poi in europa e italia grazie all'attività commercio dei veneziani il nome grano saraceno discende dal fatto che ai tempi della serenissima repubblica di venezia i maggiori mercanti e utilizzatori di queste farine particolare erano i turchi al tempo ricondotti nelle grandi famiglie dei popoli musulmani comunemente chiamate saraceni il grano saraceno ha un elevato contenuto di proteine di buon valore biologico composte da aminoacidi essenziali in particolar modo la lisina è anche ricco di fibre e in sali minerali come ferro, zinco, rame, potassio e selenio oltre che di vitamine del gruppo B l'elevato contenuto di amilopectina lo rende un alimento altamente digeribile grazie alla sua propensione a fornire elevate quantità di energia al corpo viene consigliato dalle diete degli sportivi, delle donne in gravidanza e anche delle persone anziane o debilitate avete visto quello che tutti questi ingredienti possono fare per la vostra salute per il vostro corpo e poi per il vostro palato ma non abbiamo ancora finito allora qual è l'ultimo pezzo di questa ricetta? allora possiamo aggiungere le noci che come sappiamo e come ci sai sicuramente dire molto meglio tu hanno delle proprietà fantastiche sì sì è incredibile passo di fronte a te, scusami Gaudi ma allora tolgo un paio perché ti servono dopo sì ci serviranno dopo e uso il mio frullatore speciale uso il mio frullatore speciale che guardate quello che succede metto questa lama piccola e mi fa una farina di noci alla perfezione in pochissimi secondi un, due, tre, quattro fatta ok e così tutto l'olio del noce che è ovviamente super saporito per il nostro banana bread viene sprigionato e dentro il nostro forno si farà un'altra diciamo secondo me proprio il matrimonio tra la canella e i noci è qualcosa di speciale molto americano ragazzi però fidatevi di me perché noi sui dolci ci intendiamo assolutamente siamo d'accordo poi in realtà le noci danno un sapore molto particolare al nostro pane associato alle banane sarà qualcosa di spettacolare sì e poi un pan dolce un pane che possiamo tostare per la prima colazione un pane che possiamo dare ai nostri figli come merenda ok andiamo a fornare il nostro pane allora utilizziamo noi uno stampo da plum cake che ci darà una forma classica anche molto molto ergonomica da tagliare proprio per le fette della colazione quindi una volta che noi abbiamo riempito il nostro stampo da plum cake con il nostro composto in forno a 180 gradi per quei 20-25 minuti e ovviamente noi per magia noi abbiamo la forno più veloce della pianeta ragazzi guarda uno, due, tre pam è andata ah vabbè vabbè fai tu i enori per favore chef eccoci allora innanzitutto proviamo di vederlo prima ragazzi da vicino perché è spettacolare guardate il colorito ditemi se questo sembra una cosa dietetica no no sembra una cosa che è ricco gustoso è benefico per il nostro corpo che lo è però veramente avete visto le proprietà organelettiche non mancano come abbiamo visto possiamo mettere anche delle noci prima della cottura sopra per guarnizione dopodiché noi andiamo a fare un bel taglio al nostro pane alla banana e questo è il risultato eccolo qua no è bellissimo 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 secondo me potremmo anche mettere il nostro mousse dell'avocado assoluto potremmo mettere le nostre crema pasticcere vegana cioè veramente ci potresti bizzarire con questo pane è un pan dolce ok però super salutare grazie Gaudenzio grazie Gille grazie ai nostri amici continuiamo sempre di fare un sacco di ricette per voi e siamo qui siamo qui sul canale Energy creando non solo un dialogo di ricette ma vogliamo aiutarvi a capire che cosa mangi perché capendo quelle che mettiamo nel nostro corpo ci aiuta a trattarci con più rispetto vi aspettiamo sempre qui nella cucina di mai dire dieta con tanti consigli è qualche sorriso è qualche sorriso ciao grazie a tutti grazie a tutti